Ciao a tutti ragazzi e buon pomeriggio! Continua oggi il nostro percorso alla ricerca del setup migliore per iniziare, per intraprendere il nostro viaggio all'interno della rasatura tradizionale. Un setup che possa essere sia economico ma che abbia anche buone prestazioni, con fatto di prodotti di buona qualità. Avevamo già iniziato qualcosa di simile quando abbiamo parlato delle creme palmolive. Abbiamo fatto la nostra rasatura economica utilizzando le creme palmolive. E proprio sotto quel video mi avete commentato in tantissimi, con altri tanti prodotti che potevano essere probabilmente anche più economici e garantire le stesse prestazioni. Ed è proprio dal mix di quei commenti che abbiamo creato tutti assieme il setup di oggi. Vi ho messo un po' di curiosità? Dai, torniamo subito dopo la sigla! E quindi per la felicità di Gianluca oggi torniamo a parlare del nostro amico virtuale, quello che vuole iniziare il suo percorso nella rasatura tradizionale, ma come budget ha solamente i soldi che la moglie li lascia nel portafoglio. Quindi siamo con un budget molto 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 ristretto, molto 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 risicato. Quindi Gianluca oggi cercheremo di accontentare questo nostro amico virtuale aiutandolo con prodotti economici, ma che possono essere comunque di qualità. Ci è venuto in aiuto Piero che nel video relativo alle palmolive mi ha ricordato, purtroppo mi ha ricordato che su Amazon Italia, perché ragazzi io purtroppo utilizzo Amazon UK e qualche prodotto che voi trovate su Amazon Italia a volte mi sfugge, mi ha indicato che effettivamente la ProRaso, questa qui, nella ciotolina 150 ml, viene venduta intorno ai 2,50€. Quindi può essere una validissima alternativa alla palmolive ed è comunque un prodotto di super qualità. L'andremo ad utilizzare quindi nel setup di oggi come crema iniziale. Poi il rasoio, la cosa tra i più importanti, Wilkinson Classic. Sempre Piero mi indicava giustamente che il Wilkinson Classic, che io qui in UK ormai trovo solamente nella sua versione in metallo, in Italia la potete trovare ancora su Amazon Italia, la versione vecchia, la versione in plastica, quindi pagarla 3,50€. Ragazzi di questi prodotti vi lascio tutti i link in descrizione in modo tale che potete acquistarli se dovesse interessarvi. Vi ricordo che il Wilkinson Classic viene consegnato con 5 lamette, infatti oggi utilizzeremo proprio una lametta Wilkinson, quindi rimaniamo proprio nel budget che stiamo scegliendo, però oggi andiamo ad utilizzare anche il pre-barba e ne parliamo tra un attimo. Perché come dopo barba, sempre Piero ci diceva che non tanto su Amazon, ma in qualche supermercato, si riesce ad acquistare il denim che abbiamo già utilizzato in quell'altro video sotto i 5€. Quindi diciamo che all'incirca con una decina di euro dovremmo riuscire ad acquistare il nostro rasoio double edge in plastica, Wilkinson Classic con 5 lame, il nostro sapone da rasatura che utilizzeremo oggi effettuando il montaggio in viso, ed il dopo barba, classicissimo, denim, e siamo quindi sui 10€, si può fare. Intanto mettiamo a scaldare un po' di acqua, voglio utilizzare una ciotolina che però non utilizzeremo per il montaggio della crema, la vado a scaldare, voglio solamente utilizzarla per scaldare un pelino il pennello. Sempre il nostro amico virtuale ci dice che non solo la rasatura tradizionale può essere troppo cara, cosa che riusciremo a sistemare con questi video, ma che è anche molto lenta, che ci mette tantissimo tempo per far radere una persona. Certo perché fra la preparazione del pennello e il montaggio della crema da barba andiamo a prendere i nostri 6, 7, 8, anche 10 minuti se ci vogliamo proprio coccolare, se ci vogliamo proprio prendere un bel po' di tempo per noi stessi. E quindi oggi cosa cercheremo di correggere di questo aspetto? Beh il pennello, ragazzi avete visto sulle pagine social ci sono arrivati due nuovi pennelli, e qui ve li faccio vedere, della serie S-Brush di Omega. Questo pennello, l'entry level S-Brush di Omega, costa 6 euro. Paragonato al P48 Pro Raso sempre di Omega, del costo di 4,55 euro al supermercato, che differenze potrebbe andare a portare nella nostra rasatura? Sicuramente oltre a costo la mancanza di preparazione. Ora se noi andiamo a confrontare i due pennelli, questo è il sintetico, va un po' a simulare le setole del maiale, come vedete il ciuffo è un pelino diverso. Il manico è un po' più piccolo, sicuramente la plastica è cheap, insomma è un po' economica, ma vediamo se però quello che noi ci interessa è che sia funzionale, rimanendo in un budget basso come quello che stiamo cercando assieme. Setole molto più morbide rispetto a quelle del 48, molto molto più morbide. Non punge assolutamente, setole sintetiche di qualità, altissima qualità queste di Omega. Come vi dicevo non abbiamo preparazione, quindi caro amico che vuoi iniziare con la rasatura tradizionale ma pensi di metterci troppo tempo per radirti, questo pennello va immerso solamente per scaldare un po' le setole e nient'altro. Come vi dicevo è già bello morbido, non forzerei solamente all'inizio per evitare di danneggiare le setole, ma guardate, morbidissimo. Lo proviamo per la prima volta, questa versione S-Brush, perché noi l'altra volta abbiamo provato l'iBrush, la versione diciamo media, di media qualità, che va a simulare il tasso. Vedete che differenza? La morbidezza delle setole direi anzi che forse è maggiore in questo. Quindi troviamo delle setole un po' più morbide. Mettiamolo a mollo un po' nell'acqua calda perché dobbiamo iniziare a parlare del pre-barba. In una rasatura tradizionale che vuole essere economica e che vuole un po' fare a meno del pre-barba, come abbiamo visto nel video relativo all'utilizzo della crema palmolive, cosa possiamo andare ad utilizzare se vogliamo comunque andare ad ammorpidire la pelle e a preparare la nostra barba? Ragazzi, ne abbiamo parlato tantissimo nei commenti con qualcuno di voi che purtroppo non sono andato a trovare, perché non ricordo se abbiamo commentato sotto Instagram, sotto Facebook, sotto YouTube, mi ricordo di averne parlato con Francesco, ma anche con qualcun altro che mi aveva consigliato di utilizzare questa, la crema prep classica. Probabilmente già qualcuno di voi questa ce l'ha in casa e magari non ha mai pensato di poterla utilizzare come pre-barba. Io l'ho dovuto ordinare, il costo è di circa 5 euro, la versione questa piccolina da 75 ml, perché quella che avevo già a casa si era un po' seccata, quindi non mi andavo a utilizzarla per il video di oggi, ho preferito una confezione nuova. La crema prep, oltre ad essere ottima come pre-barba, infatti come indicato ecco qui sulla confezione, il primo tab è proprio per la rasatura, può essere utilizzata per un sacco di altre cose, quindi io la prenderei in considerazione per iniziare il nostro percorso nella rasatura, perché questa in teoria dovremmo averla già a casa, può essere utile per un sacco di altre cose, tra l'altro sul tappo molto carina questa cosa, che venga riportata, vedete, sulla ghiera, sul tappo, tutte le possibili funzioni e utilizzi di questa crema. L'andiamo a utilizzare oggi come pre-barba. Ok, io direi che l'introduzione del setup di oggi è stata anche abbastanza lunga, diciamo che potremmo anche iniziare. Quindi i costi, i costi oggi sono bassi, siamo su un setup come avete visto di una decina d'euro, se ci vogliamo aggiungere il pennello, ma il pennello è un acquisto singolo che andiamo a fare, così come quello del rasoio, il resto insomma è molto molto economico. Pre-P, la prima volta che la utilizziamo come pre-barba, consistenza, ve la faccio vedere qui in camera, molto molto morbida. Vedete, sembra quasi la pro-raso rossa come consistenza. La profumazione si avvicina un po', se vogliamo, alla pro-raso verde. Ma, probabilmente alla pro-raso verde, ma ci sento anche qualcosa di un po' più spungente. di un mentolato, un profumo mentolato molto forte. Ok, un pizzico di Pre-P, andiamo a massaggiare il viso. E qui è già il primo tassello, la prima domanda che vi faccio è se avete già utilizzato la Pre-P come crema pre-barba per preparare il vostro viso alla rasatura. Con questo amico utente, iscritto al canale, con il quale abbiamo parlato, mi ha detto che lui la utilizza quotidianamente e che si trova benissimo. La profumazione è veramente forte, sembra quasi sembra quasi quei geli che si spalmano di notte ai bambini quando hanno il raffreddore, tipo il Vicks. L'odore è quello, è molto forte, è entrato nel naso in una maniera molto pungente. Quindi oggi proveremo anche per la prima volta il montaggio tramite un pennello sintetico economico, ripeto, 6 euro. Io sto trovando ottimi questi pennelli Omega sintetici. Sono morbidissimi e il fatto di non dover essere schiavi della preparazione, vi faccio vedere qui, vedete, una volta scaldato, le setole sono già belle morbide. Certo, la qualità è sicuramente differente, anzi, più che la qualità direi la preparazione della crema, così come il montaggio in viso sarà sicuramente un po' diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati, però una volta strizzato bene, eccolo qui, dovrebbe aiutarci ad avere un montaggio ottimale, specie quello di oggi che non vede l'utilizzo della ciotola. Non faremo un montaggio in ciotola, ma direttamente in viso. Il montaggio in viso ci è stato consigliato da Ciprian, che ci dice che lui utilizza questo proraso verde in ciotola da 20 anni, facendo sempre il montaggio in viso. Si raccomanda solamente di utilizzare tanta acqua, quello un po' lo sappiamo, le proraso vogliono tantissima acqua. Il pennello però l'ho strizzato, voglio solamente andare a mettere un pelino di acqua qui nella ciotola per andare ad ammorbidire il sapone, giusto qualche secondo. Quest'operazione di andare a mettere l'acqua nella ciotola, preferisco sempre farla con dei saponi che poi vado a montare in ciotola, perché utilizzo la stessa acqua. L'acqua che sto utilizzando per ammorbidire il sapone, di solito io poi la travaso nella ciotola e la utilizzo. visto che comunque è acqua insaponata, che contiene un po' di sapone, preferisco usare quella per andare poi a creare il mio mix di crema e acqua. Oggi cercheremo di non avere come risultato una crema troppo spumosa, quindi troppo carica di aria. Intanto andiamo ad armare, diciamo così, il nostro Wilkinson Classic con che cosa? Con le sue, con le Wilkinson. Quindi non utilizzeremo nemmeno delle lame esterne. Andiamo ad utilizzare direttamente le Wilkinson che troviamo in confezione, in modo tale anche da aiutare questo nostro amico virtuale, facendogli risparmiare sulle lamette, almeno all'inizio, perché sapete che utilizzare poi le astra verdi costa relativamente poco, no, una confezione da 100 astra verdi costa poco meno di 10 euro. Quindi, insomma, non è un problema andare ad utilizzare ed acquistare per la prima volta le astra verdi. Armato il nostro Wilkinson, chiuso, pronti, quindi all'utilizzo del nostro rasoio. Io direi di andare a togliere l'acqua dalla nostra ciotolina, prendere il nostro pennello che è strizzato abbastanza e proviamo a prelevare il sapone direttamente dalla ciotola proraso verde, senza premere un po' perché il pennello è nuovo e poi perché intanto andiamo a cercare di riempire il ciuffo con il sapone ammorbidendolo pian piano un po' qui creiamo già la nostra schiuma, la nostra crema qui nella ciotola cerchiamo magari di prelevarne un po' di più questa volta visto che andremo ad effettuare un montaggio in viso perché il montaggio in viso? Ci deve garantire comunque una protezione se siamo dei principianti stiamo venendo dal multilama veniamo da lame molto dolci cinque lame che effettuano una passata cinque lame praticamente contemporaneamente conformate e che hanno un'angolazione che predilige la scorrevolezza quindi dobbiamo mettere in conto che le prime volte che utilizziamo un rasoio double edge comunque un rasoio di sicurezza probabilmente ci andremo un po' ad irritare quindi avere un po' più di sapone quindi effettuare un montaggio come lo vogliamo chiamare un po' più a stucco ci aiuterà a far entrare il sapone fino alla base del pelo non ho come avete visto risciacquato il viso ho voluto lasciare la prep come base non ho voluto sciacquarla e aggiungerò man mano un pizzico di acqua anzi andiamo ad aprire perché voglio utilizzare un po' di acqua calda se non avete mai preso in considerazione il pennello sintetico ecco che questa è l'occasione per vedere come si comporta vedete dopo aver steso la nostra base andiamola a bagnare un po' perché come vedete la crema è un pelino asciutta anche se non tantissimo quindi andiamo ad intingere velocissimamente solo le punte del pennello almeno questo è quello che io faccio c'è qualcuno che magari ci fa piovere un po' di acqua a goccia direttamente sul ciuffo è uguale e continuiamo il nostro massaggio in viso movimenti circolari che possono aiutare che possono favorire il montaggio del sapone poi inserendo le dita all'interno del ciuffo lo potremo andare anche a direzionare meglio nelle zone per esempio interessate non possono essere i baffi vedete andando per esempio a stringere creeremo una striscia di sedole idonea per passare anche negli spazi più stretti del nostro viso dopodiché una volta che il sapone sentiremo che sarà entrato in profondità la nostra pelle effettuando delle diciamo così pennellate creeremo il nostro semistucco dico semistucco perché in realtà un po' lo stiamo ammorbidendo e non vogliamo una crema a montaggio che sia troppo stuccoso allora adesso diciamo che abbiamo parlato un po' della preparazione quindi ci stiamo mettendo un po' di più delle differenze fra il montaggio in ciotola e in viso ne parleremo questo ci aiuta sicuramente a risparmiare tempo anche se è un montaggio vogliamo chiamarlo un po' più tecnico un po' meno diciamo veloce nel senso che nel montaggio in ciotola gli sbagli si possono correggere facilmente nel montaggio in viso invece dobbiamo cercare di ottenere subito una insaponata vedete una insaponata che abbia una buona densità possiamo aggiungerci un po' di acqua ma se vuoi troppo liquido invece andarlo a correggere diventa un po' più problematico iniziamo la nostra rasatura quindi wilkinson classic con le sue lamette originali tendiamo la pelle vedete la scorrevolezza è buonissima quando noi stendiamo il sapone riusciamo a far arrivare il sapone fino alla base del pelo questo ci garantirà la scorrevolezza e diciamo che andrà a stressare ad arrossare meno la pelle quindi l'andrà ad irritare molto meno passate molto leggere non forzate perché il lavoro lo dovete lasciar fare alla lametta ed al rasoio sentirete sicuramente un po' di attrito perché questo tipo di insaponata che è arrivata fino alla base del pelo sta dando il massimo della protezione e chiaramente si è amalgamata molto di più di quando ne creiamo invece una spuma o comunque un'insaponata più carica di aria Cipriani io sono sicuro che tu ci metti ancora più acqua perché me lo indichi sempre di utilizzare più acqua però se vogliamo consigliare ad un principiante che magari ha la pelle sensibile cerchiamo di lasciare magari un po' meno acqua e più sapone ok io direi che la prima passata possiamo fermarci qui vado a sciacquarmi un pelino il viso dopo dopo di che effettueremo la seconda ed eccoci qui adesso abbiamo sciacquato non solo il sapone abbiamo reidratato il viso ed abbiamo anche ed abbiamo anche sciacquato via il prebarba quindi adesso facciamo un'altra un altro veloce levo di sapone adesso diciamo che l'insaponata principale l'abbiamo fatta quindi su questa possiamo anche andare un po' più sveltini quindi ragazzi come vedete questi pennelli sintetici di Omega anche le versioni entry level come quello che stiamo usando oggi un S-Brush non sono sicuramente da trascurare il loro rapporto qualità prezzo secondo me è veramente ottimo vedete quanto è morbido sulla pelle guardate vedete sembra una carezza non graffia per niente cosa che invece potrebbe fare il P48 il P48 ha bisogno di una lunga preparazione le sedue di maiale devono assorbire l'acqua solitamente chi è un po' più esperto lo mette addirittura ammollo il P48 la sera prima se si radia di mattina comunque almeno 3-4 ore prima avete visto il sintetico lo abbiamo tirato fuori dalla confezione abbiamo montato un'ottima crema un ottimo sapone dopo lo andremo a pulire e vi farò vedere che sarà già bello e asciutto non ha nulla a che invidiare nulla da invidiare ai modelli più costosi più blasonati ragazzi stiamo utilizzando un pennello che costa 6 euro e che ha delle di omega garantisce addirittura un'enorme longevità almeno le setole sembra che siano molto molto longeve e quindi questi pennelli siano super duraturi avete visto quindi tolto tutto il discorso sulla preparazione l'insaponata è stata veloce probabilmente più veloce di quando la facciamo in ciotola è vero anche che la proraso una mano ce la dà perché la proraso comunque è un'ottima crema non per niente è la più utilizzata anche dai barbieri facciamo la nostra seconda passata le rame wikinson che abbiamo trovato un po' durette quando abbiamo effettuato la prova del rasoio ne ricordate la prova che la siete persa vi lascio in scheda anche quella dai vi lascio in scheda anche la prova del rasoio dicevo ci sono sembrate un po' durette vedete oggi come stanno scorrendo bene una buona insaponata è proprio alla base quindi una volta presa la mano riusciremo non solo a non far irritare la pelle ma anche a far scorrere benissimo la lama con il multilama con il multilama si fa una rasoio tra più veloce usiamo usiamo la schiuma istantanea provi già non avendo la preparazione lunga del pennello e non avendo il montaggio in ciotola ecco che abbiamo abbattuto un sacco i tempi ok andiamo a dare un'occhiata veloce se dobbiamo effettuare qualche correzioni direi che la rasatura è stata bella profonda ok è sempre qui sotto il naso ok ragazzi abbiamo terminato Wicked Zone Classic continuo a pensare che sia un ottimo rasoio per iniziare ottimo rapporto qualità prezzo se come diceva Piero riuscite a trovare la versione in plastica ma al momento c'è l'ho vista ho già pulito il pennello volevo farvi vedere quanta crema ancora ci sarebbe stata all'interno ma ormai l'ho bagnato ora la vedremo sicuramente la prossima volta vi faccio vedere la pulizia del pennello quanto è veloce certo magari metteteci un minutino in più sciacquatelo per bene lo vedete? sciacquate per bene le setole lo strizziamo perché voglio farvi vedere come si asciuga ok viso sciacquato passiamo al dopo barba la nostra lozione la rasatura è stata molto profonda l'insaponata secondo me è andata benissimo utilizziamo il denim original dalla sua profumazione molto intensa e persistente che durerà quasi tutta la giornata a me piace particolarmente, ve lo dicevo già l'altra volta, perché è a base d'alcol e mi piace la sensazione di disinfettante che dà sulla pelle siamo riusciti a tenere una rasatura profondissima utilizzando un rasoglio vogliamo dire economico come sempre ragazzi se per caso avete altre idee commentate qui sotto il video cioè altri denti per andare a abbattere ancora di più i costi ma mantenendo una qualità alta quindi sempre alla ricerca del setup migliore da poter consigliare ad un nostro amico principiante ok la nostra rasatura è conclusa voglio farvi vedere il pennello sintetico di Omega come si comporta una volta terminata la rasatura, una volta asciugato e strizzato basterà infatti andare a scuotere un pelino all'interno della doccia della vasca da bagno, vi faccio vedere l'ho scosso 4-5 volte e il pennello è praticamente asciutto guardate vi ricordate quando all'inizio l'ho tirato fuori dalla scatola? guardate, è perfettamente asciutto ottimi questi pennellini di Omega S brush entry level vi dovete mettere solo un altro goccio di lozione denim perché mi piace veramente tanto vi saluto, vi rimando al prossimo appuntamento lasciate un like se il video vi dovesse essere piaciuto e vi dovesse essere servito e se siete solo di passaggio ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la notifica della campanella ma non perdere i prossimi video tutti i suggerimenti qui sotto nei commenti li utilizzeremo per cercare di formare il mix iniziale il setup iniziale perfetto per i principianti e con questo un saluto a tutti dal vostro FaroVest grazie a tutti